Eeeh, Beltrano sono CoproGamer e oggi siamo qui sul computer perchè vorrei provare StumbleGuys Ok ragazzi guardate si sta installando, siamo dal computer ragazzi, mamma mia Ragazzi si è installato, ok aspetta che abbasso un po' il volume che qui è un po' alto Ci siamo ragazzi, siamo su Stumble Ragazzi guardate mi ha fatto entrare, siamo sulla lobby di StumbleGuys Io non ci capisco niente, facciamoci questi Io arrivo Però ragazzi io non so neanche se c'è bisogno di un monitor o qualcosa Perchè qua non è PC proprio, è proprio computer Abbiamo sbloccato una nuova skin Questa qui va bene, lo usiamo Eeeh, voglio vedere se andiamo in battaglia Cioè voglio dire cosa succede Oddio, il personaggio cammina bene Ragazzi io non so neanche come si va avanti, non so niente Perchè è da computer Non ci capisco molto Si è bloccato Che bello la valandra Ah ok ci sei Till fall, va bene Oddio Raga quanto cacchio lag Allora ok ho capito Con questo si va avanti Però i comandi li voglio mettere Bene li voglio mettere i comandi Scusate raga sono un po' scarsino Allora È un po' brutto Come si salta? No 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 raga Devo capire come si salta Devo assolutamente capire come si salta Beh tanto abbiamo anche perso Io raga non so come si salta Dobbiamo capirlo Perché se no non si va avanti Mi raccomando seguitemi su youtube No grazie non voglio niente Allora dovremmo Ah ok Raga io davvero la cosa brutta Non so come si salta Non lo so Non lo so Devo capire Le mie manine Oh no Oh no Oh no Oh no Ah ma con spazio si salta Se non sbaglio No Allora personaggio Ti devi muovere però Raga io sto sfumando i tasti Allora Ma Eh Tutto bene personaggio? Ragazzi ci devo capire di più Così non va bene però Io clicco Allora tu hai un compito Devi andare avanti Ragazzi Record mondiale No raga però non si può andare così Salta Ho capito però io devo Devo avere bisogno di un Di un mouse Ho bisogno di un mouse io Allora Allora La personaggio Tu devi andare Perché me lo mettete qui Il comando Allora 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 ragazzi Io comprerò forse Un mouse Lo comprerò Perché così non si gioca Davvero Non si gioca Quindi io adesso Io adesso Io adesso Mi faccio un'altra partita Eh Raga Cioè ma neanche supero il martello Qui io Allora Proviamo È semplice Basta non saltare Non è per niente Semplice Ora che però Se mi qualifica Sono la persona più forte del mondo Vai gira Adesso vai di qua Bravo Adesso di qua però Bravo 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 Continua Continua Che ci qualifichiamo Continua Basta andare dritto Adesso tu vai avanti E ti qualifichi E ti qualifichi Dio santissimo Dio santissimo Aspetta che avevo una roba E niente Qua da qui è una roba Quindi ragazzi Abbiamo capito Che qua Su San Volgare Se esiste solo Jungle Roll È una cosa Incredible Ma Incredible Troppo Incredible Eh però Adesso ti muovi Eh no Adesso ti muovi Faccio la strada segreta Ti muovi Ti muovi Ti muovi No 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 Non si può giocare così Adesso Ok adesso che abbiamo messo i comandi Possiamo giocare Adesso tu ti metti qua Adesso tu ti metti qua Salti magari Tirandofully No 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 Io quitto Io quitto Io quitto No grazie ci modifichiamo pure il nome mi chiamo non lo so come mi chiamo cobra computer cobra comp ma prima di scrivere il nome andiamo a prendere questo poi mi dobbiamo il nome e poi non so cosa fare poi vado via quello epico voglio la mia prima epica ragazzi un like per me per favore adesso andiamo di qua modifichiamoci il nome e ci mettiamo cobra comp comp 3 perché è il mio terzo account perfetto ragazzi adesso sapete cosa faccio io io vado qui e mi guardo le skin non ho capito anzi noisissimo sapete cosa faccio io adesso mi metto qui e guardo il mio canale youtube guardate se riesco a mi iscrivervi ho appena capito perché per un bug non posso iscrivermi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao raga